Dopo scuola e biblioteca, un'iniziativa rivolta ai giovani ma soprattutto alle loro famiglie che potranno far recuperare alcune materie scolastiche ai propri figli risparmiando sulle lezioni private. È un'iniziativa indirizzata ai ragazzi delle scuole superiori di Capodorlando che necessitano di recuperare la cune a scuola. Un progetto che nella prima fase sperimentale avrà una durata di tre mesi, con inizio tra qualche settimana e conclusione fine maggio 2014. In un momento di crisi l'amministrazione comunale ha deciso di fare partire questo progetto. Si chiama Doposcuola in biblioteca e permette ai ragazzi degli studi scolastici superiori di Capodorlando, ragazzi orlandini, di poter risolvere qualche lacuna che hanno nelle materie dove magari hanno qualche difficoltà a scuola. Ci riferiamo ad esempio al latino, al liceo scientifico, alla matematica nei plessi orlandini oppure all'economia nell'istituto commerciale. Ma le materie verranno scelte in base alle istanze che presenteranno i ragazzi. Come funzionerà questa iniziativa? Ci saranno dei docenti che saranno a disposizione dei ragazzi nelle ore pomeridiane, nei locali della biblioteca comunale. In base ai gruppi di lavoro e alle istanze presentate dai ragazzi cercheranno di poter sollevarli dalle lacune che hanno. È un servizio gratuito per gli studenti? Sì, è completamente gratuito. C'è un piccolo invorso spese che il Comune mette a disposizione dell'associazione che si occupa di curare questa iniziativa, ma per gli studenti e per le loro famiglie è un servizio completamente gratuito. L'attività di recupero, rivolta prioritariamente agli studenti appartenenti a nuclei familiari a basso reddito, verrà articolata per gruppi di livello ed oltre a prevedere il sostegno da parte di un docente tutor, compendia il supporto reciproco del gruppo di appartenenza sia nell'esecuzione dei compiti, sia con interazione individuale per favorire il recupero dell'abilità di base. Le iscrizioni quando possono cominciare? Sono già iniziate, abbiamo messo un termine che non è perentorio, è quello del 28 febbraio, ma siccome le elezioni inizieranno a marzo è possibile presentarle anche agli inizi di marzo.